Eccoci ragazzi con il video sullo sci alpino, la scena se la prende Dominic, come è giusto che sia perché torna al podio e non mi ricordo se uno o due video fa avevo detto, insomma, non è che durante una stagione così, no, in Coppa del Mondo arranchi, fai fatica, poi quando arriva l'appuntamento importante dell'anno, in questo caso i mondiali, fai la gara, tiri fuori il garone, non lo so, pensiamoci. Pensiamoci a questo, oggi è arrivato il podio, ultimamente comunque nel complesso è migliorato Dominic, certo poi se uno si sofferma magari sulla gara di ieri dice, che schifo, e giustamente anche, però ripeto, nel complesso mettendo insieme un po' i pezzi, oggi poi arriva questo secondo posto e attenzione, attenzione mondiali, non dico altro. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Partiamo da Dominic, partiamo da Cortina, da Super G e poi due parole anche sul mancato aggancio, aggancio, scusate, a Ingemar Stenmark da parte di Michaela Schifrin. Ci può stare, ci può stare per come sono andate le cose, però non è che ce lo aspettavamo tanto, soprattutto non ci aspettavamo una Schifrin così irremissiva magari, no? Magari anche lei, insomma, ha qualcosa di umano e ha sentito un po' la tensione, la pressione più che altro. Però vabbè, Super G di Cortina, il secondo in due giorni, primo uno straordinario Marco Odermatt che fa doppietta, ma non è tanto questa la notizia, quanto l'uscita di Kilde. L'uscita di Kilde ed è una bella patosta, oltre che per la classifica, insomma, per la coppa di specialità, soprattutto per la coppa generale. Perché comunque, 100 punti guadagnati contro zero, eh, eh, tanta roba, no? Tanta roba in un momento come questo in cui i due praticamente si tirano, cioè, una volta uno, una volta l'altro, in continuazione, sportellate. Quindi, gran bella vittoria, fondamentale vittoria, fondamentale gara, giornata, chiamatela come volete, appunto, per Marco Odermatt, che praticamente, ormai lo sappiamo comunque, fa delle linee, percorre delle linee inimmaginabili per altri atleti. Oggi, quel curvore sulla sinistra, perdonatemi, non mi ricordo il nome, insomma, insomma, però ha fatto letteralmente una strage. Lui anche, sembrava stesse andando lungo, ma, rispetto agli altri, riesce a rimettersi in posizione, riesce, con il corpo, con la tecnica, non so con che cosa, con qualcosa di nato che nemmeno lui conosce, cioè, nemmeno lui padroneggia, no? Al 100%, a rimettersi in carreggiata, poi, come fa correre gli sci, alza. Pochissima neve, pochissima neve, un missile, letteralmente, parte sempre un po' in sordino, o meglio, sia ieri che oggi, nel primo settore che conta praticamente pochissimo, però, sempre in svantaggio rispetto, comunque, alla maggior parte degli altri atleti. Poi, però, dov'è che devi fare la differenza? Più sotto, ed è così, ed è questo ciò che succede, che Odermatt fa la differenza lì dove conta, ed è questo che, in generale, nello sport fanno i campioni. Un campione è anche Kilde, che però, in quel punto lì, rimane fregato. Stessa traiettoria, se non erro, rispetto di Odermatt, comunque, però, magari, anche, come è stato detto giustamente, da Paolo De Chiesano, nel post-gara, sbattendo su quel palo, in quella frazione di secondo, perdi un attimo quella lucidità, insomma, perdi quei centimetri che poi fanno sì che tu salti la porta, insomma. Ma è successo a lui, è successo a Meijar, è successo a Seierstedt, ad Interman, e ad altri, comunque, sicuramente. Mattia Casse, peccato veramente, non è caduto lì, ma è caduto praticamente a pochi secondi dal via, tocca con lo scarpone, si inclina troppo, grande botta, impatto contro le reti, che lo sbalzano, rimbalza, insomma, anche, però, per fortuna, sembra nessuna conseguenza. Ci può anche stare, insomma, magari, parti a tutta, era partito bello carico, insomma, questa è la mia sensazione, almeno, poi, ti inclini troppo, nel cambio di direzione, tocchi con lo scarpone, e parti, come fossi sul sapone, praticamente. Ieri terzo posto, oggi, comunque, una gara non terminata, però, l'importante, in vista dei mondiali, che stia bene, ovviamente, che non si sia fatto nulla. Stesso discorso che facciamo sempre per la goggia. Dominic Paris, che è sceso per primo, comunque, non avendo termini di paragone, inizialmente, nemmeno lui era troppo soddisfatto, no? Magari, quegli sci che sbattono un po' troppo, viene alzata troppa neve, però, poi, con il passare, comunque, degli atleti, che sono scesi, si è capito che era una buona run, insomma. Chi esce fuori, e invece Paris, lì, comunque, non è che sia stato perfetto, però, è rimasto dentro, e chi, comunque, fa peggio, pian piano, poi, arriva Odermatt, che è un alieno, sopra tutti quanti gli altri, e gli dà 76 centesimi, se non vado errato. Però, Paris si è messo davanti a Krikmaier, a Sander, se non vado errato, adesso, sinceramente, mi sfugge quale sia, cioè, mi sfugge l'atleta terzo, mi sfugge l'atleta che è arrivato terzo in questa gara, però, poco importa, insomma. Paris, in seconda posizione, il primo degli umani, diciamo così. E, ripeto, che sia un segnale, i misteri mondiali, io incrocio le dita, e spero di sì. Incrocio le dita, e spero di sì. Poi, passando, spero, innanzitutto, di non essermi dimenticato nulla, riguardo le cose principali, passando un attimo, invece, alle donne, al secondo slalom di Spindleruve, Mlin, in Repubblica cieca, Lena Dur, finalmente, se lo merita anche, insomma, seconda vittoria, diciamo così, in Coppa del Mondo, ma la prima di quelle che contano davvero. Una l'avevo ottenuta, comunque, un po' di anni fa, in un parallelo, però, questa è la prima vittoria, insomma, quella che conta veramente, davanti, soprattutto, a Michaela Schifrin, che ha un vantaggio, credo, di sei decimi, sei decimi, dopo la prima manche, nei confronti, appunto, della seconda, che è Lena Dur, ma, evidentemente, nella prima parte, non spinge, praticamente, per nulla, Michaela. Non spinge per nulla, e perde gran parte del vantaggio acquisito. E stessa cosa, anche se, diciamo, in maniera meno evidente, fa nei tratti successivi, negli intermedi successivi. E questo la porta ad arrivare, praticamente, per sei centesimi, se non vado errato, sì, dietro alla sciatrice tedesca. Che abbia avuto anche lei, insomma, abbia patito anche lei, l'americana, la tensione, la pressione, di dover arrivare, insomma, al record di Ingemar Stenmark? Probabilmente sì. Ma, ripeto, quando ci sono queste situazioni, è facile che ci sia anche, tra virgolette, no? Per qualche gara, magari, quella piccola maledizione, prima di raggiungere, appunto, un determinato record. O, magari, era semplicemente Stenmark che gufava, e gufava. Durante, no, vabbè, sto scherzando, ovviamente, però, insomma, Michaela Schifrin, beffata, e la sua faccia, dopo aver tagliato la linea del traguardo, dice tutto, insomma. Però, oh, questo è lo sci, prima o poi doveva succedere, sarà per la prossima, sarebbe stato un filotto clamoroso, però, allo stesso tempo, vince la tedesca. Terza, a classe 2004, croata, Zrinka, Liutic, che ha sciato veramente bene. Per trovare, se non erro, un'altra croata sul podio, Janica Kostelic, forse, magari mi sbaglio, magari ho detto una stupidaggine. Probabilmente, dopo la Kostelic, credo, ci sia stata anche un'altra croata, adesso non ricordo, precisamente, però, poco importa, anche qui. Fatto sta che Liutic è un bel talento. E un'altra croata, Popovic, se non vado errato, comunque, tra la quinta e la sesta posizione. Quindi, grande gara, insomma, oggi per la Croazia. Questo è, ragazzi, ditemi che ne pensate voi di questa domenica di Scialpino. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Forza azzurri sempre, al prossimo video.